Vivarini, col senno di poi, dopo la chiusura del carcere a mercato, come si fa a pensare che il Teramo possa lottare per qualcosa di importante se non si è rinforzato come le dirette rivali? Perché siamo una squadra competitiva, siamo una squadra forte che l'ha dimostrato nel girone d'andata. Dobbiamo chiaramente essere bravi anche nel girone di ritorno, cercare di lavorare il più possibile per migliorarci, per cercare di non mettere in evidenza le lacune che abbiamo e penso che la squadra abbia tutte le possibilità per continuare a fare il campionato che ha fatto il girone d'andata. Sabato in programma la seconda trasferta consecutiva, si va a Gubbio, Campitelli ha già detto che un punto non basterà. Noi come in tutte le partite ce l'andremo a giocare cercando di dare il massimo di noi, dobbiamo prepararla bene la partita perché comunque il Gubbio ha dimostrato che dopo una partenza un po' stendata in questo campionato poi ha trovato gli equilibri giusti, la quadratura giusta ed è riuscito a fare bene fino adesso, quindi non sarà una partita facile. E' chiaro che noi punteremo sempre a cercare il massimo e poi purtroppo il campo darà il suo verdetto. E' lecito pensare a due ballottaggi per la formazione che scenderà in campo sabato, quello tra Masullo e Di Matteo e quello tra Perrotta e Di Achite? Ma sì, diciamo che Di Achite mi ha messo in grande difficoltà ad Ancona perché nel secondo tempo è entrato con il piglio giusto, con l'attenzione giusta dimostrando a tutti che lui è un titolare in tutti gli effetti ed è un giocatore importante, quindi è da tenere in grande considerazione questo aspetto. E poi diciamo che Masullo insieme con Di Matteo sono una coppia veramente importante perché Masullo non è uscito dai titolari perché aveva demeritato in qualche partita. Quindi questi sono problemi di abbondanza che abbiamo e io penso che qualsiasi scelta farò sarà giusta perché comunque i giocatori stanno bene. Abbiamo avuto qualche problema in settimana con Speranza che ha preso un pestone sul dito del piede e quindi è stato un po' a riposo precauzionale. Mentre invece Donnarumma ha avuto una piccola contrattura dopo domenica, lui è chiaro che ancora, ecco questa è un'altra cosa da dire, che ci abbiamo da riportare nelle migliori condizioni diversi giocatori, tra cui Di Matteo, tra cui Donnarumma che ha saltato tutto il periodo di Natale. Domenica gli abbiamo tirato un po' il collo e di conseguenza poi lunedì ha avuto un piccolo risentimento muscolare, però penso che per sabato saranno a disposizione.